La seduta di rifinitura Martedì alle 15,00, a Torre del Grifo, primo allenamento in vista di Catania rende.Portieri, 22 Martinez, 12 Pisseri.Difensori, 4 Eia, 16 Blondet, 26 Bogdan, 21 Esposito, 19 Mannea, 13 Semenzato, 5 Tedeschi.Centrocampisti, 27 Biagianti, 17 Bucolo, 23 Di Grazia, 18 Fornito, 32 Mazzarani, 8 Grazie a tutti i nostri spettatori